L'emergenza a casa, specie quando si accompagna a disagio economico e sociale, è un problema molto sentito in tutta Italia e che si acquisce in particolare nei grandi centri urbani e nelle città metropolitane. Ma come capire qual è il fabbisogno abitativo sociale di un territorio? 32 comuni della città metropolitana di Torino sono stati oggetto di uno studio che si propone di rispondere al quesito fornendo tutti i dati necessari perché sia possibile affinare le strategie di pianificazione e le scelte politiche. Le questioni aperte intorno alla Casa Sociale è il titolo dello studio realizzato dall'Osservatorio Abitativo Sociale della città metropolitana e dalla Regione Piemonte che è stato presentato in un convegno il 4 luglio. Dopo i saluti dei consiglieri metropolitani con delega alla pianificazione Pasquale Mazza e alle politiche sociali Valentina Cera sono intervenuti anche i comuni campionati. Non servono soltanto i muri, servono opportunità di interazione, di ascolto, di convivialità all'interno delle comunità erpe. Lo studio ha messo in luce in maniera oggettiva quella che era un percepito, una sensazione che comunque avevamo che però era molto spannometrica mentre adesso ha dei dati oggettivi che ci possono permettere anche di guardare al futuro in maniera più oggettiva. Abbiamo creato un tavolo diretto di housing territoriale al cui interno ci sono anche degli educatori professionali che collaborano nella gestione in particolare degli housing sociali e delle strutture dove ci sono famiglie più fragili. Questo è stato un grande aiuto soprattutto per gestire dinamiche di conflittualità all'interno dei condomini, delle strutture. Grazie.